Siamo con Francesco Gulli, il mister della squadra Materasso. Questo campionato, cosa puoi dirci di questo campionato innanzitutto? Beh, è un campionato che noi abbiamo cominciato non troppo bene, col piede sbagliato, ma vogliamo sicuramente migliorare e riprendere un po' la giusta via. Cosa vi aspettate da questo campionato? Beh, in realtà è la prima volta che siamo iscritti. È una squadra, ci conosciamo tutti da tanto tempo, ma in realtà abbiamo sempre giocato in varie squadre diverse, e quindi è un po' un'avventura che comincia con questo campionato. Sicuramente nell'ottica futura saremo più competitivi l'anno prossimo. Calcio Liguria tra l'altro è un'organizzazione che da anni crea appunto questi tornei e quest'anno in palio ci sono, come tu ben sai, anche dei primi molto interessanti, tipo delle automobili. Beh sì, questo è sicuramente un incentivo per fare meglio, però obiettivamente noi vogliamo divertirci e stare insieme come gruppo di amici, quindi quello secondo me è lo spirito giusto con il quale partecipare a questi tornei. Poi se ci sono dei premi per una volta non è male, è una cosa in più. Grazie.